Ben ritrovati gentili telespettatori per una nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale. In prima pagina un servizio che arriva da Jesolo e riguarda ancora l'omicidio Bardella, previsto per sabato il rientro della Salma. Vediamo. Potrebbe rientrare in Italia sabato la Salma di Roberto Bardella, il 52enne ucciso nella favela Morros dos Pranzeras di Rio de Janeiro, dove si trovava con il cugino Rino Polato, miracolosamente risparmiato. La data non è ancora ufficiale, ma la magistratura brasiliana potrebbe concedere il nulla osta per l'impatrio proprio quest'oggi. Almeno questa è la risposta comunicata ai familiari di Roberto, che da Jesolo sono in costante contatto con la Farnesina e il Consolato italiano in Brasile. In questo modo il corpo dell'agente immobiliare, assassinato lo scorso giovedì mentre percorreva in moto la favela al centro della metropoli Carioca, potrebbe essere imbarcato nella giornata di domani per atterrarne Italia sabato. In considerazione della mancanza di ufficialità, al momento alla famiglia non è stato specificato se il volo atterrerà a Roma o a Venezia. Sembra invece escluso che sulla Salma di Roberto, una volta rientrata in patria, venga disposta una nuova autopsia. Con molta probabilità il feretro verrà messo a disposizione dei familiari per i funerali, ai quali è già annunciata la presenza di tutta la città. L'amministrazione comunale di Jesolo parteciperà all'eseque in modo ufficiale con il gonfalone della città. Inoltre è stato già deciso che prima dell'inizio del consiglio comunale del 22 dicembre verrà osservato un minuto di silenzio in onore di Roberto. Per il rientro della Salma non c'è ancora comunicata nessuna data ufficiale, ha spiegato Marco Giusti, cognato di Roberto, ma solo l'ipotesi di un suo possibile imbarco per domani con arrivo in Italia per sabato. Ci auguriamo che possa esserci la conferma. In ricordo di Roberto è stata anche avviata una raccolta di fondi per i bambini che vivono nelle favelas di Rio. Tre patteggiamenti per il fallimento della società record Cuscine di Pramaggiore. La sentenza è stata emessa ieri mattina dal giudice per l'udienza preliminare Alberto Scaramuzza sulla base dell'accordo raggiunto tra il rappresentante dell'accusa, il pubblico ministero Stefano Ancilotto e i difensori degli imputati. Circa sei mesi fa le stesse pene o di poco inferiori erano state ritenute troppo basse da un altro gruppo, Roberta Marchiori, la quale aveva rigettato il patteggiamento. Ettore Sette, nel 68 anni, residente a Manzoè, in provincia di Treviso, già presidente del calcio Treviso e del calcio Pordenone, ha chiesto e ottenuto l'applicazione di tre mesi di reclusione in continuazione con una precedente pena per un totale complessivo di due anni entro i termini della sospensione condizionale. L'allora amministratore delegato Luciano Rebecca, 71 anni, di Oderso, ha patteggiato una pena complessiva di due anni e sei mesi in continuazione con un precedente condanna, mentre Fabio Setten, 42 anni, di Oderso, figlio di Ettore, ha patteggiato un anno e sette mesi. Pochi mesi fa quest'ultimo aveva chiesto e ottenuto l'applicazione di otto mesi di reclusione in un altro processo per aver omesso il versamento dell'IVA per un ammontare di 568 mila euro, sempre in relazione all'attività della record cucine di Pramaggiore. L'accusa, formulata a vario titolo ai tre amministratori, è di aver distratto dalle casse della record cucine ingenti somme di denaro per un ammontare complessivo di oltre un milione e mezzo di euro. La pistola puntata al volto della fiorista, mentre il figlio di 10 anni assiste impaurito alla rapina. Tutto si è consumato ieri sera verso le 19 in via Roma ai danni della Petite Boutique. Dopo una decina di minuti a ritrovarsi la pistola puntata al volto è stato Fabrizio P., 77enne, residente di Via Torino, che ha rimediato un pugno al volto definito all'ospedale. In fuga invece il rapinatore che ha incassato circa 200 euro del negozio. Ora i carabinieri della compagnia di Porto Luaro, diretta dal capitano Michele Laghi, stanno cercando di un malvivente. Si tratta di un uomo di circa mezza età, cooperatura esile, che con accento meridionale ha poi fatto perdere le sue tracce, ma le immagini del sistema di videosorveglianza potrebbero rivelarsi utili per individuarlo. Gli investigatori del nucleo operativo dei carabinieri, diretti dal maresciarlo Marco Geminiani, hanno acquisito i filmati e ascoltato le vittime, riuscendo a raccogliere gli indizi per l'avvio delle ricerche. Il bandito, travisato in volto e con un berrettino verde in testa e guanti alle mani, è entrato nella fioreria quando non c'era nessun cliente. Dietro al banco invece, Samantha con il figlio di 10 anni, armato di pistola che per i carabinieri è con ogni probabilità vera, l'uomo l'ha puntata al volto della malcapitata e con accento meridionale si è fatto consegnare circa 200 euro, poi si è allontanato a piedi. Sciocchiate le due vittime sono solo riuscite a chiedere aiuto al 112. Per i carabinieri non c'è, è stato nemmeno il tempo di arrivare che il bandito è entrato nuovamente in azione. Questa volta ha scelto un'abitazione privata a circa 400 metri dal negozio rapinato. Alla porta si è presentato il 77enne Fabrizio, che sentito il campanello pensava di trovarsi di fronte alla moglie di rientro. Invece davanti al portone di casa c'era quel rapinatore che cercava di farsi consegnare del denaro. Scioccato il 77enne non ha reagito, ricevendo però un pugno in viso. Da lì la fuga del rapinatore che ha fatto perdere le tracce. In poco tempo sono arrivati i carabinieri che hanno diramato le ricerche e avviato le procedure di blocco sulle strade della zona. Purtroppo del malvivente al momento non c'è più traccia. Intanto il 77enne Cintese è stato soccorso dai sanitari del 118, che hanno riscontrato un brutto trauma al volto, per questo gli è stata stilata la guarigione in 15 giorni. La notizia della doppia rapina ha scosso la popolazione di Cinto, ma anche dei paesi limitrofi, riportando in auge il tema della sicurezza nel territorio. Auspico che anche le attività commerciali rispettino le nostre tradizioni culturali e religiose, non andando verso aperture nelle giornate del 26 dicembre e del 1 gennaio. Si chiude così la lettera di auguri inviata dal sindaco Maria Teresa Senatore ai responsabili degli esercizi commerciali del Comune di Portogruaro. Un intervento, quello del primo cittadino che si inserisce nella polemica legata alla decisione del colosso Carrefour di tenere aperto a Santo Stefano e a Capodanno, come vi abbiamo detto nel servizio precedente. Il direttore dell'Iper Portogruarese, per giustificare la scelta, aveva sottolineato il totale rispetto della normativa e l'aumento della concorrenza sul territorio, dove qualche mese fa è sorto a 200 metri dal Carrefour un altro supermercato. Le festività natalizie puntualizza, però il sindaco rappresentano per tutti un'occasione per stare vicino ai propri cari. Adesso ci spostiamo a San Donato di Piave con il prossimo servizio, perché lo smog è alle stelle. Il sindaco è abbastanza cauto. Sentiamo. Il livello di concentrazione di PM 2.5 e le polveri ultra sottili ha raggiunto un picco di 78 microgrammi per metro cubo nella giornata di martedì. A renderlo noto è il Comune, secondo il quale il livello del particolato atmosferico più sottile sarebbe comunque in fase di rarrefazione, oltre quota 50 microgrammi per metro cubo, come rilevato dalla centralina Arpav di San Donato. Il sindaco della Cereser invita a prevenire misure drastiche. Il livello rilevato non è allarmante, sostiene il sindaco, a fronte di una situazione allarmante che riguarda l'intera provincia in quanto non deve superare i 25 microgrammi per metro cubo come media annua, che a San Donato negli ultimi anni non si è mai verificata. Ma l'approssimarsi dell'inverno richiede una certa attenzione per la salvaguardia della salute, ribadisce ancora il primo cittadino. Dal Comune non arrivano quindi misure drastiche, ma solo dei suggerimenti rivolti alla popolazione. Ridurre l'uso dei veicoli, spegnere il motore delle automobili e mezzi in sosta o in fase di carico e scarico, ridurre il funzionamento degli impianti di riscaldamento, limitare l'uso di stufe a legna o pellet e caminetti, evitare di bruciare sfalci, potature e altri residui agricoli, tutti comportamenti che prevengano ulteriori incrementi degli inquinanti in atmosfera. Andiamo adesso a Meolo. Il consigliere Michele Stefani si è dimesso. Al suo posto sui banchi della maggioranza è stato nominato Giuseppino Tessari. La sindaca Loretta Liprandi, nella scorsa seduta consigliare, viste le dimissioni polemiche e le contestazioni di Stefani, ha ribadito che non ci sono spaccature all'interno dell'amministrazione. Il nostro lavoro non subisce intoppi, ha sottolineato la sindaca. Il gruppo è stato impostato in modo cooperativo e non prevede che solgano problemi derivati da scontri di personalità. Lavoriamo in armonia per il conseguimento dei risultati prefissati. Per presso invece è Massimo Zanon della lista basso. Più che rassicurazione, l'intervento del sindaco, fa sorgere interrogativi, ha detto. Secondo noi vi è più di qualche malumore nella maggioranza. Massimo Zanon ha ricordato che in due anni già tre componenti dell'esecutivo si sono dimessi. Adesso andiamo ad Oderso, parliamo del problema dell'attività dei profughi. Adesso i profughi sono in fuga dalla caserma Zanusso. Sentiamo. Migranti in fuga alla caserma Zanusso. Due di loro sono stati visti scavalcare il muro di cinta dall'ex presidio militare dalla parte di via Calde a Piera, per poi allontanarsi a piedi il più velocemente possibile. L'area da quel lato della caserma è piuttosto isolata con la strada comunale percorsa da un limitato numero di auto, per lo più di residenti. Erano da poco passate le 7, dunque neppure tanto presto. Essendo inverno la visibilità è limitata e inoltre l'illuminazione pubblica è carente. A notare i due in fuga è stata una residente, perché l'attenzione è molto alta in zona da quando sono arrivati i migranti. Anche se non sembra, vi sono occhi attenti che osservano e due migranti che scalano il muro di recinzione al mattino o presto riscano di essere visti come accaduto. Non sarebbe neppure la prima volta. Si tratta, come appare evidente, di una vera e propria fuga. Ben difficilmente i due fuggitivi rientreranno nel centro di accoglienza. Con ogni probabilità invece di aspettare incerto risultato della loro richiesta di asilo hanno preferito partire subito per raggiungere amici e parenti in qualche paese europeo. È inutile che mi dicano, commenta la sindaca Maria Scardellato, che il rilascio delle carte di edità serve anche per avere un controllo della presenza di questi migranti sul territorio. È un'osservazione che lascia il tempo che trova. Al centro di accoglienza al mattino fanno l'appello, è sufficiente guardare le liste che poi vengono trasmesse in municipio. Si sta presto a vedere se tutti rispondono alla chiamata o se qualcuno non alza la mano. Sarebbe interessante sapere se all'appello due soggetti non hanno risposto o se qualcun altro ha alzato la mano per loro. Del resto allontanarsi non è poi così difficile. È vero che c'è un alto muro di recinzione, ma gli ospiti sono tutti giovani e agili, ha concluso la sindaca. Venerdì alle 20 al centro Marcuzzo si svolge la cerimonia annuale di consegna delle borse di studio, agli studenti, meritevoli agli sportivi. Siamo a Fontanelle e in tale occasione verrà anche presentata la nuova app istituzionale del Comune. È uno strumento tangibile per tenere informati i cittadini sulle novità e sulle notizie e sui eventi del Comune, dice il sindaco Ezio Dan. È a garantire questo la possibilità ai cittadini di partecipare attivamente alla vita comunale. L'app accorcia la distanza tra il Comune e i cittadini, rendendo ancora più efficienti il flusso di informazioni istituzionali, turistiche e culturali. L'app è disponibile negli Apple Store. Un vero e proprio colpo al cuore per la comunità di Caorle. È così che i caorlotti hanno vissuto la notizia del furto all'interno del santuario della Madonna dell'Angelo. Nella notte tra mercoledì e giovedì, i gnoti hanno violato il luogo sacro per derubare la statua degli ex voto. I malviventi, evidentemente ben attrezzati, hanno segato le inferiate e rimosso la rete in metallo che proteggono una delle finestre della sacristia. Una volta entrati in sacristia, hanno sfondato la porta che conduce all'interno del santuario, dove, indisturbati, si sono dedicati alla distruzione del vetro rinforzato che difende l'effigie della Vergine dal 2007. Dopo aver infranto il vetro, i profanatori hanno asportato collanine e bracciali, donati dai fedeli alla protettrice di Caorle. Fortunatamente i preziosi di maggior valore non si trovavano sull'effigie. Durante l'azione sacrilega, la statua della Madonna è caduta in avanti, bloccata dalla parte di vetro non distrutta dai ladri, senza riportare danni. Il simulacro del bambino è invece stato ritrovato a terra nei pressi del tabernacolo con tre dita rotte. Complessivamente il danno economico dovrebbe aggirarsi attorno ai 2000 euro, anche se la parrocchia Santo Stefano si era assicurata contro una simile eventualità. Non è infatti la prima azione sacrilega compiuta all'interno del santuario. Il 10 ottobre del 2007 due malviventi ruppero la teca di vetro presente all'epoca ed asportarono circa 500 grammi di oro votivo. È evidente però che in un caso come questo, come ha ricordato don Davide Rioda, vicario parrocchiale di Caorle, non è tanto il danno economico a rilevare, ma la profanazione del luogo e dell'effigie più sacra per la comunità di Caorle. Deve essere stata un'azione premeditata ed organizzata, ci ha raccontato il sacrestano Antonio Dallabella, che per primo si era accorto ieri mattina verso le 7 del furto mentre andava ad aprire il luogo di culto. È stato proprio il sacrestano a dare l'allarme avvisando i carabinieri di Caorle che sono giunti sul posto per compiere le indagini. Nel pomeriggio il nucleo operativo dei carabinieri di Portogrado ha effettuato i rilievi che si spera possano aiutare i militari al comando del marisciallo Francesco Lambiase nell'individuazione dei responsabili. Da qualche anno il Dipartimento Materno Infantile organizza una veia natalizia all'ospedale di San Donato di Piave in collaborazione con la Cappellania Ospedaliera. Si tratta di un evento che coinvolge in primis i piccoli reggenti, quindi i piccoli utenti in cura, le rispettive famiglie, inoltre tutto il personale dell'area materno infantile. Per l'edizione di quest'anno l'evento è stato ampliato e aperto anche al pubblico. Infatti domani, giovedì 15 dicembre, alle ore 15, l'ingresso ospedaliero Marco Gardini si trasformerà in un luogo di festa e di raccoglimento con il cappellano Doneros Pellizzari, con musica e canti natalizi del gruppo coordinato dal dottor Gianni Cantanzucci e dal coro dell'oratorio diretto dalla dottoressa Esther Silvia Virdis. Verrà scoperto il presepio dell'ospedale e ci saranno inoltre un momento dedicato ai terremotati del Centro Italia e la testimonianza di alcune famiglie che hanno usufruito del servizio di pediatria e dell'ostetricia di San Donà. Infine i saluti del direttore generale dell'ASL 10 Carlo Bramezza e del direttore del dipartimento materno infantile Pier Giuseppe Flora. E dopo questa notizia, gentili telespettatori, andiamo a vedere un nuovo scatto dal territorio con fotoreporte a cura di Vinicio Scortegagna. Bene, gentili telespettatori, termina qui l'informazione per il Veneto orientale. Io vi ringrazio per l'attenzione e dopo un attimo di pausa non cambiate canale perché ci sono le prossime edizioni dei notiziari del Friuli Venezia Giulia e di Padova e Rovigo.